Stefano Roffan, il 39enne cortonese, morto il 6 ottobre 2014, a poche ore dalle dimissioni dal pronto soccorso, si sarebbe potuto salvare se fosse stato trattenuto all'ospedale. A stabilirlo la sentenza del Tribunale di Arezzo, che ha condannato in sede civile l'Asla Toscana Sud-Est a pagare circa 300.000 euro alla famiglia dell'uomo, accogliendo così di fatto l'accertamento dei periti che aveva permesso di stabilire il nesso causale tra le dimissioni del giovane dall'ospedale Santa Margherita della Fratta e il successivo decesso avvenuto in seguito ad un infarto mentre tornava a casa. Secondo il giudice Carlo Brecci, dunque, le dimissioni del 39enne avvennero prima del necessario. Se fosse stato trattenuto Stefano si sarebbe potuto salvare. La fibrillazione finale sarebbe potuta infatti essere monitorata e risolta, come prevedono le linee guida. Invece le dimissioni avvennero con una diagnosi di ernia ietale, con un codice verde, l'uomo morì poche ore dopo. La famiglia di Stefano Rofani, seguita dall'avvocato Gabriele Zampagna, aveva chiesto anche di riesumare la salma per fare chiarezza sulle cause della morte e adesso arriva la vittoria in sede civile che ribalta quanto accaduto invece dal punto di vista penale. La causa, carico di quattro medici e infermieri accusati di omicidio colposo per la morte dell'uomo, infatti era stata archiviata su richiesta del PM Falcone che sosteneva la non esistenza di un nesso di causa-effetto tra le dimissioni e il decesso, visto che il cortonese avrebbe sofferto di un'anomalia cardiaca non riscontrata però in sede di perizia.